Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIODERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi oramai siamo quasi addirittura d'arrivo con le sfide della 14 giorni d'estate, quella di oggi, è veramente molto semplice. Ci chiede di ottenere un punteggio di 10 o più alle tavole dei clown e come si fa ragazzi lo sappiamo tutti perché non è la prima volta che le vediamo, basta semplicemente avvicinarsi ad una tavola, andare a colpire i palloncini che escono uno dopo l'altro. Una volta che saremo arrivati a 10 otterremo ovviamente la nostra ricompensa. Questa tavola ragazzi si trova alla fine del fiume dove c'è Laguna Languida ma ce ne sono tantissime altre, c'è quella che si trova qui dove c'è la pista da sterrato, ce n'è un'altra che dovrebbe essere qua a sponde del saccheggio dove c'è l'oasi, la spiaggia. Un'altra si trova qui, la più famosa, una delle più famose si trova invece dove c'è qua, i grandi magazzini tra rifugio e i magazzini. Insomma ragazzi, una delle sfide più semplici in assoluto che quelle di Epic Games potessero farci fare. Io vi auguro ragazzi di farla subito al primo colpo, mi raccomando, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alle 15 con il Fort White, ciao! Noi ci vediamo alle 15 con il Fort White.